se non ci capi proprio sopra solo dopo che non facevo la live o di gente social full timer pesca sì ma sta attenta cacchio tira via quella roba lì devi farmi spazio qui tira via questa cosa qui questo 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 tira via questo brava spacca tutto e fammi spazio ah sì più che altro questo lago qua ci sono anche dei bracconieri perciò non so poi quanto pesce ci possa essere rimasto eh